Nella Rettino c'è la Promo Service che è una scuderia, quali tipi di corse voi fate? Noi principalmente siamo partiti con la nostra passione che ci lega al mondo dei rally, poi cerchiamo di allargarci, quindi abbiamo messo su anche dei giovani piloti che corrono sui kart, comunque cerchiamo di dare la nostra esperienza per cercare di valorizzare anche i giovani del territorio che possono iniziare a correre, quindi diamo il nostro apporto come scuderia, come team. Noi siamo una piccola struttura, diciamo, a livello, diciamo, comunque per quanto riguarda la nostra struttura qui ad Arezzo, ma veramente corriamo un po' in tutta Italia. Noi, diciamo, cerchiamo di fare del nostro per mantenere questa nostra passione e quindi coinvolgere le persone in questo sport, ecco. Senti, dove siete più forti? Nei kart o... Ma, diciamo che quest'anno, nel 2013, siamo stati più forti nei kart perché abbiamo un ragazzo molto giovane, Davide Rosini, che ha vinto un campionato con i kart, trofeo Gilera, campionato Gilera, quindi in gara in tutta Italia, nei circuiti un po' principali in tutta Italia. Però, chiaramente, nei rally, insomma, anche lì abbiamo... ci difendiamo molto bene, però questo, diciamo, è stato il titolo più importante del 2013, ecco. Grazie. 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 Grazie.